mamma che bello essere i maschi ma Elena ho dovuto scegliere a quale diciottesimo venire ubriaco no si infatti tu puoi andare l'albata e direi che cazzo che vuoi però è tutto gratis io gli offro tre carri quindi dovresti essere contenta tu eri il ragazzo che mi diceva sempre io non bevo io sono a Stan ma io non bevo mai tranne la tua festa che figa bravo Elena sembra un po' strafatto bravo